Buongiorno, buon mercoledì. Oggi è mercoledì 2 di ottobre. Ottobre è iniziato, questa settimana è già iniziata da qualche giorno. Oggi io vado a lavoro, ieri ero a casa che ho fatto la terapia e stamattina sto cercando di mettere un attimo in ordine quello che è il mio carellino diciamo creativo, quindi dove c'erano i miei washi tape, adesivi, le carte, diamond painting, timbri eccetera eccetera perché avevo accumulato fra Shane, Temu e Exxon ovviamente in quest'ultima settimana alcune cose dovevo ancora sistemarle. Il problema è che mi sono accorta che questo carellino che avevo preso su Temu è pieno, non ci sta più una cippa. Dovrei prendermi un altro carellino ma al momento non mi pare il caso. E niente, stavo sistemando un po' di cosine appunto per mettere un po' di ordine proprio perché poi ieri sera, ieri sera stanotte più o meno le due, ho finito il diamond painting di Anako e di Nene. Mi piace un sacco, l'ho tutto diciamo loccato con la colla, quindi l'ho fatto asciugare, adesso l'ho messo via e ora che sono tipo le 10 e 20, volevo iniziare, mentre andavo avanti con Winter, sono andata comunque avanti con Winter tutto ieri sera, volevo iniziare un nuovo diamond painting. Volevo farne uno a Temu Halloween ma prima voglio provare a farne un altro che mi è arrivato ieri da Temu che è un diamond painting, possiamo chiamarlo parziale perché non devi rifare tutto il disegno praticamente il disegno è già fatto, hai solo determinate parti in cui attaccarci i diamantini per dargli un senso ecco di 3D. È il primo parziale che faccio. Bagaio, cosa stai facendo? Mi sta massacrando i sacchetti degli adesivi. Lasciali stare, lasciali stare, maledetto. E niente, quindi voglio prima fare quello che tanto entro oggi, lo finisco e poi voglio partire con uno a Temu Halloween. Ne ho presi due, uno con dei mici con le zucche e l'altro è a tema Tim Burton con i personaggi dei suoi film, c'è Beetlejuice, c'è Jack Skellington, Sally, Edward Manny de Forbici, insomma penso che farò questo qui prima dell'altro. e poi ne ho 90.000 a tema Natale, fra quelli di action e altri che ho preso fra scene e Temu. E niente, stamattina ho finito di leggere il volume 3 di Jimbo Chosister perché l'avevo iniziato l'altra sera, poi non sono riuscito ad andare avanti, l'ho finito stamattina. Molto carino come sempre, adesso ho l'ora di avere il quarto volume per andare avanti. peccato che mi pare che col quarto o il quinto siamo alla pari col Giappone, quindi poi sarà una lettura molto lenta. Sempre molto bella questa storia, la storia di queste tre sorelle, in particolare la protagonista principale è quella di Mezzo, cioè lei. però insomma alla fine i protagonisti di questa storia sono bene o male i libri, il quartiere di Jimbo Chosister, quindi come invitano a capire com'è. E dopo penso invece che leggerò il volume 13 del monologo di ieri della speziale, in realtà io ce l'ho anche in fumetteria, però ho preso da Amazon la versione speciale con anche il libretto. In realtà questo libretto è quello che c'era anche all'interno della box della Variance del 13 francese, però vabbè averlo tutte le versioni, anche perché con la box è molto più bella. Cosa di diverso questa versione regola? Il libretto, due segnalibri e la copertina un po' con dettagli dorati rispetto a quella normale. Ci sono un po' spregati con i J-pop, insomma la Variance del 13 francese è altamente superiore, però mi va bene avere il libretto in italiano, cioè per carità l'avrei letto in francese, ma avere in italiano va comunque bene. Bene, finisco di sistemare, mi metto a fare quel Diamond Painting e poi vediamo un po' come va la giornata. Ripeto, inizio a lavorare alle 5, quindi oggi ho tempo. Io ho già tirato fuori tutto, ieri ho anche organizzato meglio il mio portapenne eccetera eccetera, questi sono i diamanti tondi, questo era l'occhetto che miagola, questi sono i diamantini che sono diversi da quelli soliti, per quello che devo fare, allora l'idea è che io volevo fare questo, che è bellissimo, ma appunto prima ci focalizzeremo, non so appena lo ritrovo eh, ci focalizzeremo su questo qua, che è appunto quello parziale che vi dicevo, che sicuramente non darà la stessa soddisfazione del farne uno intero, però secondo me il fatto che andrà a risaltare solo alcuni dettagli sarà molto bello, quindi vedremo l'effetto finale, e poi comunque è bellissimo. L'ho preso su Temu, molto molto carino, se mi piacerà l'effetto vedrò di prenderne altri, vediamo, guarda questo qua, questo qua sarà una roba assurda da fare ed è un 30x40, figuriamoci fosse stato più grande. Come bisogna organizzarmi con questo? Perché come siete dalla leggenda, non c'è il numero universale per questi diamantini qua, che allora o sono contati, e lo scopriremo facendolo, o vedrò di organizzarmi mettendoli in sacchettini particolari dopo, quindi non dentro i porta diamantini con i colori universali, ma lasciandoli a parte, perché questi sono veramente diversi dal solito, quindi non lo so, magari sono contati, secondo me ce ne sono di più, ma lo scopriremo poi. Intanto inizio a farlo e attacco Winter. L'ho finito, per carità è molto bello, molto sbirlucicante, poi anche con le perline e tutto. I diamantini qualcosina è rimasto, quindi ce ne erano un pochino di più, ma andranno a finire dentro questo barattolo, appunto perché non hanno il numero che vi possa permettere di riutilizzarli. Però non mi ha dato la stessa soddisfazione del fare un diamond painting intero. Però è molto bello, domani che faccio un intermedio lavoro, compro una cornice e glielo metto dentro. Questo merita di essere incorniciato e messo in bella vista, non chiuso dentro un raccoglitore. Dai, risultato molto bello, svolgimento veloce, adatto per chi vuole iniziare a conoscere il diamond painting, qualcosa di veramente molto semplice, veloce, rapido, in dolore, e che mette anche a prova la pazienza di chi non li ha mai fatti. Però comunque il risultato è molto bello. Però abituata a sfide più impegnative, è stato un po', ecco, tra virgolette, una delusione per il fatto che è stato troppo veloce da fare. Non so per quello, però è meraviglioso. Buongiorno, che poi buongiorno, ormai è buon pomeriggio, oggi è lunedì 7 di ottobre. È passato qualche giorno dal precedente aggiornamento, ma è stata una settimana un po' così. Ho lavorato, non ho fatto poi chissà che cosa. Oggi invece sono qua, finalmente, senza nessuno che mi ronza in giro per casa, con la felpa, perché finalmente fa freddino. Perché stamattina, da action, sono tornata a casa con questo bel bottino. Le ho presi tutte e tre tipologie. Sono carry-on, come una che avevo già fatto, con l'uccellino nella gabbia. Però così sono a tema Natale. Infatti qua abbiamo la casa di Natale, poi ho preso la giostrina di Natale e il villaggio di Babbo Natale. E adesso sto costruendo la casetta di Natale. Perché sto iniziando a portarmi avanti con un po' quelli che sono gli spicci massi, ma che non farò qua su YouTube, ma che farò come l'anno scorso su TikTok. E vorrei infilarci, appunto, anche video di questo genere. L'anno scorso mi era capitato di metterne uno, che era stato il mio primo book nook, che l'avevo fatto a tema Natale. E niente, quindi quest'anno voglio infilare in mezzo ai vari video, un po' di video anche di creazione di questi puzzle che a me piacciono molto, appunto, però cose a tema Natale, non di altre tematiche. Quindi magari anche scrapbooking, robe del genere. In questi giorni ho letto veramente poco, perché sono veramente cotta. Ho letto qualche manga, ho continuato ad ascoltare Winter, e sto cercando di portare a termine Follettiana. Sono sempre loro. Sempre loro, perché appunto adesso mi sono ben assestata, bene o male al lavoro, però sono stati giorni un po' impegnativi per varie cose, perché ho avuto un sacco di cose da fare, eccetera, eccetera. Quindi ero anche un po' stanca in realtà, non che oggi non lo sia, perché ho fatto due mattine di apertura di fila, sia ieri che oggi. Oggi sono anche rimasta un po' di più per finire quello che stavo facendo, quindi sono anche un pochino stanca. Ma visto che non voglio cedere, non voglio dormire, perché voglio dormire poi domani mattina, mi sono messa a fare questa cosa per tenermi la mente occupata, per quanto io comunque sia abbastanza stanca. Dopo mi guarderò l'ultimo episodio di Love Next Door, che ieri sera non sono riuscita a guardare, perché comunque sono andata a letto abbastanza prestino rispetto al solito, perché comunque iniziavo alle sette e mezza, e poi penso che andrò anche avanti con il Diamond Petit e con Winter. Boh, adesso vediamo. Vorrei fare tante cose, ma vediamo come va con la testa e con il sonno soprattutto. Intanto adesso vediamo di finire con questo carillon, perché comunque è una cosa abbastanza veloce da fare. L'altro carillon mi aveva mandato un po' fuori di testa, perché c'erano dei punti in cui insomma era un po' un dramma far star sull'uccellino nella gabbia, però questo sembrerebbe abbastanza più semplice dell'uccellino. Quindi adesso lo faccio, magari vi faccio vedere il risultato finale. Intanto qua abbiamo un po' un circo con il ranocchietto e Shira Yuki che giocano, quindi vabbè, almeno non mi annoio. Finito! C'è stato un piccolo intoppo, nel senso che avevo messo le viti al contrario, infatti non faceva trita, non si incollava, però è finito! Molto bellino, ho litigato un sacco con il comignolo e il fumo, però è carinissimo, molto molto carino. Gli altri due che ho preso sono questo, con questo disegno qua, questo, con il carillon, mentre questo l'ho preso ieri, che praticamente costruisci un orologio e funziona anche, quindi sono molto curiosa di farlo. Poi ho preso altre 200.000 cose da costruire, ma dettagli. Buon salve! Buon martedì! Io sono riuscita solo questa mattina a vedere l'ultimo episodio di Love Next Door e sono molto triste perché è finito. Mi mancherà un sacco. Rispetto a tanti altri di cui ho letto pareri e cose del genere, a me questo finale è piaciuto, secondo me è un finale perfetto, adatto per una storia del genere e no, non ci sarà un seguito e non lo voglio neanche il seguito perché a me, secondo me, così finisce perfettamente in linea con quella che è la storia e con quello per il modo in cui si è sviluppata. Tanto ti lasciano benissimo intendere come andrà a svincolarsi i vari, diciamo, le varie vie dei personaggi, quindi per me va bene così. Io sono molto soddisfatta di questo finale, so solo che mi mancherà tantissimo perché mi è piaciuto veramente un sacco, ma veramente, veramente tanto, 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 tanto. Allora, adesso sono le 11.20, io dovrei fare 200.000 cose, ma devo ancora vedere l'episodio di Ramamezzo che è uscito sabato, quindi adesso magari metto online in il book haul che doveva uscire tipo a fine settembre, cioè, no, in realtà doveva uscire a settembre perché è quello con gli acquisti che ho fatto tipo fino a fine estate, però sempre molto puntuale. E dopo mi guardo l'episodio di Ramame perché devo ancora vedere questo primo episodio di questo reboot che aspettavo un sacco, quindi solo che anche lì un episodio settimana non ce la posso fare, almeno qualcosa che mi istituisce Love Next Door anche se non sarà la stessa cosa, perché mi mancherà a prescindere, a prescindere. 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 forse per me in questo momento andrei molto volentieri a letto però ho finito giusto in tempo prima di dovermi iniziare a preparare per andare al lavoro di leggere Follettiana alla fine mi mancavano solo tipo 5 racconti sì, 5 racconti che sono quelli che ho letto adesso che sono uno quello dell'Onibaba uno che arriva dalle leggende coreane uno che arriva sempre alle leggende straniere e gli ultimi due che arrivano dal folklore italiano e quindi c'è stato anche un po' di taglia sappiamo forse non tutti che comunque il folklore italiano ha radici ben radicate per quanto riguarda queste cose e arrivare a leggere anche racconti che arrivano un po' dal folklore riguardo queste creature italiane è sempre molto interessante, ci porta un po' ecco indietro nelle radici delle nostre storie delle nostre credenze molto carino sicuramente è un testo che mi sono trascinata tanto perché comunque alcuni racconti mi sono piaciuti altri li ho trovati un pochino noiosetti ma come avveniva anche per quello dedicato alla luna che ho letto l'anno scorso ovvio che essendo... quello forse era un po' diverso da questo questo era proprio solo dei piccoli racconti presi dalle storie folcloristiche di varie antologie quell'altro racchiudeva anche altre tipologie di letture per esempio appunto c'era il racconto della pazzia di Orlando quando si parte per la luna oppure anche, diciamo, testi un pochino più scientifici che arrivano da Galileo queste cose qua, invece qua erano solamente racconti folcloristici che arrivano da varie antologie ed è ovvio che in questo caso ci possono essere racconti che piacciono più o meno di altri e quindi può portarti anche a non apprezzare del tutto la raccolta nel suo complesso l'ho assolutamente apprezzata molto carina, molto bello di leggere di varie creature che comunque meno male possono avere lo stesso nome ma distinguersi un po' da zona a zona e vabbè la storia dell'Oni Baba già la conoscevo quindi quella per me non è stata una novità però dai sì, carino se vi piace il genere di letture cercate una lettura che parla di folletti, di creature magiche un po' dispettose, ecco, date per questo periodo ve lo consiglio, molto carino poi appunto, ripeto, è una bellissima edizione fatta da veditore che meritano sempre fra le illustrazioni e la cura e tutto quanto bene, visto che ho finito questa che era la mia lettura fuori audiolibro quindi racconti da leggere ogni tanto alla sera o durante il giorno mi dedicherò a un'altra raccolta di racconti così finalmente leggo quella che posso definire ufficiosamente la mia lettura di Halloween l'ultimo libro dei racconti di sangue di Barker libro che mi andrà a chiudere questa lunga, diciamo, esperienza di lettura dei libri di sangue che ho iniziato parecchi anni fa e che si concluderà appunto con quello che leggerò quest'anno ho voluto lasciare un po' di spazio fra la lettura di uno e dell'altro perché purtroppo ok che adesso la Fanucci sta portando un po' i libri di Barker ha riportato in due tomi i libri di sangue ha riportato i primi tre volumi di Abarat però non nella versione con le illustrazioni che è un grande peccato perché Abarat gira intorno ai disegni di Barker è nato proprio dietro ai disegni che ha fatto Barker quindi Abarat senza i disegni non ha senso di esistere però vabbè poi Barker comunque non si decida a pubblicare il quarto e il quinto che sono gli ultimi due che mancano quindi non l'ho ancora letta e non la leggerò finché non avrò la certezza che usciranno e se non usciranno li leggerò ma finché Barker è vivo la speranza è l'ultima a morire un po' come Martin però Martin mi sono stancata di leggerlo devo dirvi la verità dovesse uscire un nuovo libro delle cronache del ghiaccio del fuoco mi andrei a cercare gli spoiler non avrei proprio più il coraggio di mettermi a leggere un libro per cui ci ha fatto aspettare così tanto tempo e devo dirvi la verità per cui per colpa di tutto questo tempo ho perso veramente l'entusiasmo assolutamente mi sono diciamo consolata con la fine della serie tv quindi dovesse uscire sia mai il sesto libro delle cronache del ghiaccio del fuoco non lo prenderei non lo leggerei mai giuro è brutta dire perché io ho amato i primi cinque ma per una questione di principe proprio non ce la farei più invece per Barker per Abarat sono sono fiduciosa e aspetterei proprio aspetterò aspetterò e se mai arriveranno leggerò i primi tre però intanto voglio voglio avere ancora la speranza che possano uscire quindi Follettiana finito si va di Barker dove appunto oltre ai racconti c'è anche il racconto ultimo che è quello che va ufficialmente a chiudere la raccolta dei libri di sangue perché i libri di sangue si possono leggere nell'ordine che si vuole ma c'è una regola fissa e quella deve essere il primo racconto della prima raccolta e l'ultimo racconto dell'ultima raccolta devono per forza essere letti come primo racconto e ultimo racconto perché danno l'inizio e poi la fine di quelli che sono tutti gli altri racconti quindi della serie non si deve sgarrare su questo puoi leggere il primo puoi passare a leggere i racconti da un altro uno dei tanti altri non leggerli per forza in ordine ma il primo e l'ultimo dell'ultima quindi siamo nelle versioni che ho io il primo di infernalia e l'ultimo del sesto vanno letti come primo e ultimo quindi alias il primo le nuove versioni del prima raccolta delle due pubblicate quindi il primo del primo libro va letto come primo racconto l'ultimo del sesto libro va letto come ultimo racconto di chiusura e mi mancheranno devo dire la verità perché ho cercato di dosarmi nel tempo e e questa volta arrivo alla fine di quelli e letti quelli non so se l'anno prossimo leggerò qualcos'altro di Barker se farò passare un po' di tempo però prima o poi vorrei dedicarmi a leggere effettivamente i Magica che è un po' il suo capolavoro un po' quello che viene definito il suo hit per farvi capire non mi sento ancora pronta però ho letto parecchi libri di Barker per realtà come lettrice come bagaglio dell'autore esserlo vedremo intanto ci leggeremo questo con la speranza che sia una degna conclusione che non mi faccia l'effetto ectoplasme e quarto libri di sangue che non mi avevano fatto impazzire il quinto già mi era piaciuto più del quarto ma il quarto non mi era proprio piaciuto a parte un racconto un po' come ectoplasme alias il secondo quindi speriamo in bene ma adesso lo vado a prendere me lo porto giù ma in realtà adesso mi inizio a preparare perché inizio alle 5 fuori c'è un tempo del piffero e quindi andrò via un po' prima perché quando il tempo non è bello la gente disimpara a guidare io non voglio arrivare in ritardo ovviamente buon mercoledì oggi sono di riposo ho appena lavato i capelli e stamattina è stata come sempre la mattina delle belle notizie ma lasciamo perdere però almeno abbiamo avuto qualche gioia perché sono arrivati i due volumi della Renoir di segretaria Kim 4 e di Horizon che deve essere terrificante come lettura cioè l'ho sfogliato ed è qualcosa di assolutamente terrificante da quello che ho capito un mondo invaso non ho capito se dalla guerra o da un qualche morbo praticamente distrugge l'umanità e questo ragazzino camminando ritrova il corpo della madre che è morta e poi salva una ragazzina e partano per questo viaggio alla ricerca di un luogo in cui poter vivere serenamente quindi sempre verso questo di Horizon verso l'orizzonte sempre qualcosa di veramente tremendo letture leggere sempre e comunque ma diciamo che l'arrivo più bello è quello che mi è arrivato tipo da poco 10 minuti perché ho approfittato degli sconti della giornata Prime su Amazon che erano ieri e sono anche oggi e ho preso un book nook che era scontato di 20 euro a tema natale quello che avevo messo nel carrello di scena ovviamente non è più disponibile l'anno scorso ho fatto il mio primo book nook ed era a tema natale le madonne che non ho tirato per farlo però è stato molto soddisfacente quest'anno ne volevo fare un altro ma non ne trovavo da nessuna parte l'ho visto questo della Rolife era scontato e me lo sono preso la Rolife è una casa produttrice di queste cose di cui io usufruisco molto mi piacciono molto i loro prodotti anche l'ultimo book nook che ho fatto quello a tema street sakura era sempre della Rolife ma ne ho anche altri della Rolife in casa ancora da fare e quindi avremo anche quest'anno il nostro book nook a tema natale da costruire e andrà anche questo sempre a finire negli spicci mass su tiktok come era stato per quello dell'anno scorso c'erano due varianti questa che è christmas trees e poi tipo dentro la casa però questo mi piaceva di più mi piaceva di più era molto più ricco molto più colorato dice che il livello di difficoltà è 3,5 questo alla fine è praticamente un puzzle con qualcosina da incollare quello dell'anno scorso era molto difficile era tutto quanto da incollare era stato il primo mai più dice che sono 289 pezzi e niente vedremo lo faremo verso metà novembre più o meno così da avere il tempo ecco di farlo non vedo l'ora di iniziarlo perché sono molto entusiasta poi non so dove lo metterò però intanto lo facciamo perché va bene così buongiorno oggi è venerdì oggi è l'11 di settembre oggi è esattamente un mese che ho iniziato a lavorare da action e oggi sarà una giornata infinita detto come va detta non sono proprio in forma e ieri mi hanno chiesto se oggi rimango fino a chiusura perché chi deve darmi il cambio ha la febbre e oggi mi sparo un bel 1 e mezza 9 di sera aiuto ce la posso fare ce la devo fare qua davanti a me c'è un bagaglio un ranocchietto che sta facendo il suo numero ed è tutto pieno di ragnatele dove ti sei andato a infilare sono quasi le 10 sto finendo di far colazione mentre dopo tipo 3 mesi ho ripreso in mano Dreamlight Ballet Dreamlight Ballet il gioco della Disney per la Switch che non ci ho giocato per un bel po' perché mi faceva stare male a giocarci sempre per quella cosa che è successa e di cui non vi ho detto niente e però insomma ero rimasta indietro di tipo 3 giorni a 20 forse era il caso di riprenderlo in mano e per il resto prima di andare a lavorare vorrei anche iniziare a leggere un primo racconto di Barker perché alla fine l'altra sera l'altro giorno comunque non sono riuscita a iniziarlo cioè si avevo letto la prima pagina e mi sono addormentata e allora non la tengo buona e lo ricomincerò lo ricomincerò da capo questo è quello questo è quanto oggi sarà molto lunga ma devo riuscire a portare a casa questa giornata sarà una giornata abbastanza impegnativa ma ce la possiamo fare questo qua sto giocando con il controller della Switch e beh mi sembra giusto vero gatto non si gioca con il controller della Switch no 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 lascia stare il controller della Switch lascia lo stesso non si gioca con il controller della Switch vabbè devo litigare col gatto che mi mangia il controller della Switch buongiorno e buon sabato oggi la mattina è iniziata con me che ho portato a Elis da Antonio tracheite si è beccata una bella tracheite adesso l'ha fatto antibiotico antinfiammatorio e vediamo un po' come va oggi pomeriggio lavoro dalle 5 e mentre ero in sala d'attesa che aspettavo ho iniziato a leggere il sesto libro di sangue di Barker e il primo racconto porca miseria mi perseguitano mi perseguita la parola morte mi perseguita la parola tumore mi perseguita è un incubo questa cosa ma quest'anno è la parola incubo per quanto mi riguarda comunque per il momento solo l'inizio non mi sta dicendo granché ma Barker sappiamo che prima sviluppa poi dopo patapum vediamo poi come va quel racconto niente sono cotta ieri è stata una giornata veramente infinita all'altro punto che non ce la facevo più e vabbè adesso stamattina non ho dormito quanto volevo perché ovviamente ho l'appuntamento a un quarto alle 10 però domani mattina dormo perché inizio mezzogiorno però sono veramente stravolta sono devastata sono stanchissima ma non cederemo riusciremo a finire questa settimana e a portare a casa anche questa beh ci la facciamo adesso fra un po' ora di pranzo adesso intanto mi cambio perché sono ancora vestita per come sono andata via e non lo so magari tiro fuori un po' Dreamlight Valley o forse no non lo so non so neanche io che cosa voglio di fare quindi vedrò poi durante il resto del pomeriggio prima di andare a lavorare giorno buon lunedì oggi è il 14 di ottobre ed è esattamente un mese da quando pallino mi ha lasciata da sola che era il 14 di settembre il giorno in cui abbiamo fatto l'eutanasia è stato un mese abbastanza impegnativo sotto quel punto di vista i primi giorni soprattutto e oltretutto in questo momento sto anche editando il secondo blog di settembre non ero ancora riuscita a farlo e appunto si parte praticamente subito qualche giorno dopo che pallino non c'era più e non è non è proprio una cosa bella da rivedere però vabbè i dettagli e devo farlo di editarlo e niente oggi sono a casa perché prima mi sono fatta la terapia oggi è lunedì e oggi c'è mia cugina e mi rifarà la frangia perché adesso insomma inizia freschino quindi posso tornare a farmela oggi vorrei andare avanti con il diamond painting e anche con winter il più possibile e se proprio mi riesce provare a finirli non riuscirò mai però ma anche perché mi mancano poco meno di sei ore di ascolto di winter e farmi seri di diamond painting potrebbe essere definitivamente la morte per la mia schiena però ci proviamo adesso finisco di dare il vlog lo metto a caricare lo metto online e poi faremo tante cose se mi riesce perché sono stati giorni almeno gli ultimi tre abbastanza pieni impegnativi a lavoro quindi sono anche abbastanza cotta però adesso ho quattro giorni in cui bene o male posso dormire la mattina e comunque domani faccio dalle quattro e mezza quindi ho un pochino più di calma mercoledì sono a casa perché devo andare a fare una visita e poi pomeriggio si va da action con madre perché glielo ho promesso che glielo portavo giovedì faccio sempre pomeriggio faccio l'apertura venerdì e poi insomma ci ci mettiamo comunque in careggiato pensiamo a questi giorni un po' per riposarci e vediamo i prossimi giorni questi giorni vi ho detto che avevo iniziazione di leggere il libro di sangue di Barker ho finito ieri il primo racconto perché alla fine l'ho iniziato effettivamente l'altro giorno perché non è passato neanche un mese si è passato un mese ma non era passato neanche un mese da quando avevo portato pallino da Antonio che ha iniziato a stare male Alice perché insomma non mi danno un po' di trega coi gatti e si è beccata una bella tracheite però adesso sta un pochino meglio diciamo che dopo aver fatto quattro giorni da afona era veramente afona lei che chiacchiera sempre vederla così era strano adesso un po' di voce è tornata comunque ho letto il primo racconto del sesto libro di sangue carino sempre particolari i racconti di Barker un racconto abbastanza tranquillo rispetto a altri che ho letto però molto ad effetto per alcune cose anche qua mi sono sentita molto toccata per cose che sono successe intorno a me negli ultimi mesi io non so come faccia Barker o sono io che ho proprio l'anternino per i libri che vanno a toccare quelle cose che mi segnano non lo so però Barker è Barker comunque il primo racconto mi è piaciuto più tranquillo rispetto agli altri ma mi è piaciuto e adesso vediamo come saranno gli altri dopo si riesco a leggere il secondo e vedremo un po' sto lasciando un po' da parte i manga in questo periodo non lo so mi sono arrivati un po' di manga nuovi però non ne sto leggendo che sono titoli che vorrei leggere sarà che sono successe tante cose che ho tante cose per la testa anche il fatto di leggere non è che sto leggendo tantissimo devo dirvi la verità vabbè ci aggiorneremo il resto della giornata e vado avanti a editare l'ultimo vlog di settembre a metà ottobre io sempre puntuale stavo andando avanti con il mio diamond painting e ascoltavo winter è arrivato un pacchettino un pacchettino che penso di sapere che cos'è e adesso lo avremo per avere la conferma perché se è quello che penso non vedo l'ora di leggere questo libro oltretutto il mese scorso questo mese ancora no perché insomma ho delle spese da fare però ce le ho già nel carrello ho recuperato alcuni dei titoli neon che sono già usciti fra cui kokun e i primi due e sì e quelli e in realtà il problema è che mi interessano tutti quindi ci sarà da ridere neon sarà un po' la mia rovina ma penso la rovina di tanti ma la mia io parlo per me la mia in particolare poi ci sono io che sono qua che cerco di beccare la cometa che dovrebbe essere esattamente in quella direzione poi ci sono delle bellissime nuvole grazie cielo rimarrò qua un pochino buongiorno buon martedì oggi è martedì 15 come avete a vedere ieri mia cugina mi ha messo la mano in testa dopo anche ripassarmi la piastra perché è un po' ovviamente dormendo ci sono un po' messi alla pene di segugio comunque sono tipo le 10 di mattina e il mio obiettivo della giornata è quello di voler finire il diamond painting mi mancano questi 5 quadratini qua e vorrei finirlo prima di andare a lavorare oggi inizio alle 4 e mezza se parto adesso dovrei bene o male farcela inoltre appunto ieri sera mentre finivo gli ultimi diamantini che non sono riusciti ad attaccare ieri pomeriggio ho finito di ascoltare winter quindi ho quasi ufficialmente dico quasi perché mi mancano i racconti postumi alla storia quelli fine storia che stars above ho finito però la saga principale delle cronache lunari finalmente dopo anni che l'avevo iniziata e vabbè ovviamente mi è piaciuto un sacco mi è piaciuto un sacco questo ultimo volume mi è piaciuto molto e niente in generale è una saga che vi consiglio assolutamente approfittatene soprattutto visto che ora anche se si trova solo nei due draghi comunque l'hanno ristampata quindi ne vale davvero la pena una di quelle saghe che andavano anni fa secondo me più belle rispetto a tante altre quindi uno dei diciamo retelling dei tanti che ho letto che ho assolutamente maggiormente apprezzato personaggi belli avventure belle tante storie comunque che vanno a intrigarsi in un'unica trama davvero in maniera molto ben fatta senza buchi di trama quindi tutto davvero tutto davvero tutto ben ben fatto adesso mi rimane da leggere i racconti diciamo la raccolta finale che è Stars Above ma non lo leggerò subito mi ci dedicherò sicuramente però entro la fine dell'anno perché adesso mentre ho davanti con i Diamond Painting ho fatto un po' di Ambra Bazzi e Ciccocò e ho deciso che il prossimo libro che farà parte della diciamo del momento audiolibro quindi mentre faccio altro sarà Il famiglio della Liba Ardugo oggi so che voglio ascoltare questo adesso prima di dedicarmi a quello di Jay Christophe e niente anche perché è un pochino più piccolino quindi intanto ci dedichiamo a questo che mi intriga da morire e vado avanti con il Diamond Painting e poi oggi punto vado a lavorare domani invece sono a casa che devo andare a fare una visita e niente abbiamo qua mister Ranocchietto che sta esplorando e mi sta cercando e sta studiando che disastro fare sicuramente e niente vado avanti di Diamond Painting e inizio a ascoltare il famiglio so che chiun chi l'ha letto lo ha molto apprezzato e io sono davvero molto curiosa perché come vi dissi non lo so dalla trama mi ricorda un po' un Penny Dreadful per alcuni aspetti quindi vediamo vediamo sono molto curiosa già come andrà a finire la situazione chi lui mi lascerà attaccare un diamantino che sia uno perché conosco i miei polli io li conosco fin troppo bene i miei polli mi fermo un secondo dall'andare avanti con il Diamond Painting perché mentre facevo il Diamond Painting è arrivata la Halloween Box della Caravaggio quest'anno sono finalmente riuscita a prenderla l'anno scorso non c'ero riuscita l'ho preordinata appena le hanno messe fuori per non farmi la scappare quest'anno e quindi ecco la volevo aprire con voi qua ho anche il mio taglierino quello serio quello che uso per lo scrapbooking per il Diamond Painting perché è chiusa molto molto bene e niente quest'anno la volevo assolutamente e quindi sono molto felice di essere riuscita a prenderla e ovviamente è impaffettata da Dio abbiamo ancora la plastica è enorme questa box e adesso la vediamo per bene con tutto il suo contenuto wow è bellissima guardate che meraviglia è stupenda 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 adesso vedo se riesco a mettere la visuale qua sopra così vediamo se riesco a farmi una panoramica migliore si dai si vede bene ora guardate intanto qua che bello è stupendo con anche il ciondolino con la ragnatela il ragno cioè è assolutamente stupenda adesso qua abbiamo anche un bellissimo gufo e dietro c'è appunto il ringraziamento per aver acquistato la Halloween box quindi niente vediamo 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 il contenuto è quasi un peccato aprirla perché è talmente bella che mi dispiace mi dispiace solo cioè andare a distruggere questo bellissimo pacchetto ma dobbiamo farlo per andare a vedere ovviamente il contenuto mi è caduto il ciondolo dopo il recupero hanno fatto anche un bel nodo non volevo rompere il fiocco ma ok ok ce l'ho fatto ce l'ho fatto non so quante fossero diciamo disponibili nel preorder solo che comunque sono riuscita a prenderla subito se appena hanno aperto gli ordini io l'ho fatta mia immediatamente allora che parte si apre di qua vediamo wow bellino dentro c'è anche questo che è un raccontino extra molto carina come cosa davvero con gli scheletrini che lo tengono fermo tutti questi adesimi li tengo possono tornare utili per lo scrapbooking in qualche modo viva il tutto così fatto in questo modo molto carina come cosa e poi appunto la carta nera con dentro tutto quello che c'è allora oddio questa cosa inquietantissima l'insetto e wow allora da dove cominciamo cominciamo da questo che è Carmilla è a cura di Enrico De Luca sempre nella collana appunto dei classici ritrovati in questa nuova versione ovviamente con anche le illustrazioni all'interno io Carmilla l'avevo già letto io possedevo già in un'altra versione però io mi fido come ben sapete sempre delle traduzioni di Enrico De Luca quindi non me lo sono fatto scappare e questo è il primo poi c'è questo la strega altri racconti sulla paura di Chekhov sono praticamente quasi tutte le loro nuove uscite o comunque uscite recenti anche questo in caso questo è la paura di Pietro Verzina anche qua sempre belle edizioni e ci sono anche le illustrazioni all'interno queste loro edizioni a me fanno impazzire sono meravigliose e anche questo non vedo l'ora di leggerlo poi abbiamo il catalogo Caravaggio del 2024 con gli autori e ovviamente tutta la loro tutte le loro opere uscite e il catalogo poi abbiamo questo tinte fosche anche questa è una loro nuova uscita che è davvero molto bella anche questo guardate che meraviglia stupendo assolutamente meravigliosa anche qua delle illustrazioni stupende quindi niente non vedo ora di leggere anche questo volume perché wow bellissimo poi abbiamo l'ombra scura e altri racconti oscuri di Edith Nesbit anche sempre questo ancora di Enrico De Luca sempre la collana quella dei classici ritrovati sempre anche qua la cura non manca mai e sono tutti testi che non vedo davvero l'ora di leggere poi abbiamo sempre come libri questi perché il sangue e la vita sempre a cura di Enrico De Luca un racconto di Francis Merrill Grafford del 1905 racconti molto brevi ma anche qua bellissime illustrazioni e tutto davvero non vedo l'ora di leggerlo sempre della stessa collana aiuto sempre a cura di Enrico De Luca di Von Dagen and Grafford un mistero della campagna romana dove non sarebbero male quasi tutte nuove uscite un racconto del 1887 anche qua sempre delle edizioni ben curate con le illustrazioni e tutto e quindi anche questo non vedo l'ora di leggerlo qua abbiamo i bonbon delizie letterarie questa scatola molto molto carina con dentro il contenuto ci sono anche delle caramelle c'è un segnalibro poi ci sono caramelle cioccolatini adesivi questi vengono dalla Lidl questi li riconosco arrivano dalla Lidl e come bonbon c'è il lupo manano della campagna romana sempre a cura di Enrico De Luca di Mary Crawford piccolino molto molto carino è piccolo piccolo però davvero molto bellino anche questo si leggerà veramente molto in fretta e poi ultimo non certo per importanza oltre a questa tutta carta e c'è anche dell'altra roba di sotto faccio vedere morte tu morrai di diretta sapienza questo qui anche che è davvero qualcosa di bellissimo bellissimo non vedo l'ora di leggere anche questo dovrebbero essere anche in questo caso dei racconti e infine sotto la carta abbiamo altri due cioccolatini io li conosco questi arrivano sempre dalla Lida sono delle cose di Halloween della Lida un piccolo teschietto e una bellissima matita a forma di scopa di strega stupenda davvero stupenda assolutamente soddisfatta della box davvero soddisfattissima di tutto quanto io contento di averla presa e spero di riuscire a prenderla anche il prossimo anno quindi io dovrò di leggere tutte queste belle cose che c'erano dentro buon salve buon venerdì oggi il 18 di ottobre oggi ho fatto l'ennesima questo da action però è una cosa che a forza di mettere a posto mi astra incuriosita che sono praticamente questi si chiamano manga drawing set hai dei pennarelli hai 10 cartoncini e puoi colorare appunto dei cartoncini bianchi con disegni stile manga io volevo appunto testare anche perché sono questi pennarelli che sono quelli che sono semi quelli che usano i mangaka quelli che poi a base alcolica puoi ripassare sopra ti fa la sfumatura più hai appunto un pennarellino per passare i bordi e una piccola penna colorata bianca di quelle a gel per fare la tipo le schiarite i puntini schiarite nei capelli eccetera eccetera ho voluto provare vedere un po' come funzionava quello che ti danno loro praticamente sono cartoncini col disegno proprio bianco fondamentalmente solo la base e ho voluto provare e iniziare a vedere come funziona per il momento mi è uscito così e mi sta piacendo da morire davvero molto carino mi piace davvero tanto ovvio che è una cosa che consiglio a chi piace colorare quindi chi ha un senso appunto del colore chi ha un senso della sfumatura insomma chi è comunque abituato a colorare cose del genere però mi piace un sacco come sta uscendo e anche l'effetto del diciamo ombre luci che danno i pennarelli secondo me sono davvero davvero ottime e adesso mi metto a fare la diamond painting quindi non lo finisco però i prossimi giorni mi ci rimetto lo voglio finire perché mi sta piacendo veramente tanto come sta uscendo e bello è un set molto carino anche come regalo di natale da fare magari per qualcuno a cui piace colorare a cui piace disegnare a cui piacciono anche soli manga per così passare un po' il tempo e colorarli bello bello mi piace I approve I approve stamattina è inzata alle sette e mezza oggi pomeriggio ho dormito mia madre ha detto che ho dormito un sacco perché ho avuto tipo due ore avrò dormito vabbè alzarmi alle cinque e mezza insomma è abbastanza tragica e niente adesso voglio mettermi a fare faccio merenda intanto inizio il nuovo diamond painting che ieri ho preparato dividendo tutti i diamantini mettendolo nei contenitori eccetera eccetera però sono sempre molto felice di questo che sto facendo bello mi piace mi piace mi piace mi piace trattano in considerazione può essere davvero un ottimo regalo di natale ripeto a chi piace colorare e a chi piace i manga questo è il contenuto appunto vedete dieci buongiorno buongiorno in realtà è buon pomeriggio per me è buongiorno perché mi sono appena svegliata dopo che ho fatto un po' una dormita visto che sono oggi è la terza mattina di apertura alle sette e mezza e quindi diciamo che il mio cervello richiedeva un po' di sonno adesso mi sono presa su sto andando a vedere il po' che l'ho visto anche quando sono arrivata a casa però abbiamo superato la soglia rossa perché deve ancora arrivare la piena dopo tutto il disastro che c'è stato del reno eccetera eccetera e stiamo aspettando la piena del po' allora vi dirò l'ho visto più pieno ok ha avuto momenti peggiori però è carico d'acqua ecco quindi sto andando a fare un sopralluogo vedere come è messo ce ne sta ancora di acqua insomma è comunque alto voi sapete che quando arriva una certa soglia inizia un po' ad intimorirmi mi intimorisce ma so che l'ho visto in maniera peggiore quindi sono anche un po' tranquilla è qualche giorno che non ci aggiorniamo proprio per questo motivo questa era la magia che abbaiava proprio per questo motivo cioè che arrivavo cotta a casa al lavoro e quindi era che avessi chissà che vogliono fare ieri ho fatto una miniatura così per staccare il cervello ho iniziato un nuovo diamond painting però sto facendo poco perché sono stanca e non ho letto niente in questi giorni proprio zero assoluto quindi vabbè ci rifaremo in questi giorni in cui dovrei essere un pochino riposata domani mattina per fortuna dormo perché faccio pomeriggio a chiusura e così sarà per i prossimi giorni anche perché io non mi riposerò più da vedè che mi sono riposata venerdì mi riposerò appunto domenica quindi saranno dieci giorni fu uno dei fiali all'altro sono quasi arrivata e adesso devo vedere il po' si sta salendo la strada di casa mia e niente di più niente di meno penso si vede che comunque l'acqua viaggia e viaggia una cifra che è la cosa più positiva di tutti è un po' lercio un po' un po' tanto lercio e qua effettivamente con gli alberi della goleina non rende tanto comunque l'acqua è arrivata a quel livello della serie io mi ricordo sempre nel 1996 quando l'acqua era sulla strada quindi per me questo si fa paura ma non è niente comunque eccolo qua è alto certo che è alto per forza abbiamo superato la soglia rossa perché siamo alle due e mezza l'ha segnato come 2 metri 51 sul livello idrico 0 quindi abbiamo superato la soglia rossa perché quella 2 metri 50 però livello idrico 0 livello idrico rossa ma l'ho visto in modalità peggiore a quanto viaggia l'acqua una cifra la cifra buongiorno buon venerdì sono quasi le 10 io inizio a lavorare all'una e finalmente devo anche tirarmi la pranzia finalmente un attimo di tregua dall'avere sempre qualcuno qua in giro anche a casa perché mia zia e mia madre appena compiegato mia zia a fare una visita quindi ho un po' di momenti di tranquillità in solitaria che un po' mi mancavano e ne sto approfittando per mettere finalmente online la seconda parte del video di sede il vlog di settembre e siamo a fine ottobre però vabbè dettagli sono state delle settimane abbastanza intense anche questi giorni abbastanza pieni e quindi niente non è successo nulla di che infatti come potete vedere il vlog questa volta ricopre direttamente tutto al mese in questi giorni mi sono finalmente potuta iniziare a guardare il nuovo anime di Ramma e mi sta piacendo un sacco me lo sto guardando in lingua con i sottotitoli lo sto trovando veramente fatto molto bene per quanto ovviamente io sia super affezionata a quello a quello vecchio però mi sta piacendo molto e in visione di questo mi è tornata anche la voglia di rileggermi per l'ennesima volta il manga e ho quasi finito di leggere stamattina il terzo volume e ce lo rileggeremo tutto ovviamente conoscendolo per me è una lettura veloce cioè conosco quello che succede è comunque una lettura veloce Ramma da fare divertente come sempre mi sento a casa quindi adoro un sacco e adesso che ho un attimo tranquillità metto l'anel vlog poi vado avanti a leggere Ramma e poi preparerò il pranzo e a mezzogiorno e mezza vado via oggi lavoro fino alle 5 e poi torno a casa la situazione qua poi è sceso tranquillamente la piena è passata senza problemi fuori c'è ancora brutto però insomma cazzarola siamo a fine ottobre insomma ci sta che adesso inizia a fare un pochino più freddino un po' più umido un pochino più brutto il tempo è una cosa normalissima non è normale non sono normali tante altre cose per quanto riguarda tutto quello che sta succedendo di piene esondazioni eccetera eccetera e niente la settimana prossima è Halloween io come sapete ho la casa già decorata da mo' e non vedo l'ora che passi Halloween per quanto mi piaccia Halloween per iniziare a decorare la casa natale io ho sempre il pezzo dei balocchi con l'ora di decorare la casa natale quindi non vedo davvero l'ora bene metto online il vlog la fine del vlog di settembre e poi vado avanti con Ramma e magari ci aggiorniamo nei prossimi giorni anche se non credo che capiterà chissà che di così entusiasmante ma vedremo un po' come va ecco sapere che in queste settimane sono un attimo in fissa come tutti i vecchiardi come me immagino con la serie che sta uscendo su Now dedicata agli 823 quindi insomma quella che sta uscendo su Now e mi sta piacendo un sacco veramente un sacco sono uscite per ora i primi 4 episodi in realtà gli episodi escono il venerdì su Sky poi ci sono su Now io il venerdì sera mi guardo tale quale l'unica roba che mi piace guardare la tv tale quale e quindi domani sera mi guarderò il quinto e il sesto episodio purtroppo sono solo 8 sono totalmente in fissa con questa serie che adesso che ho messo online il vlog della seconda parte di settembre mi sono ricordata che una volta che ho purtroppo dovuto abbandonare il mio vecchio computer ho salvato tutto quello che era a salvare e c'era la cartella max 90 che è stato il concerto che ho fatto a Ferrara al Ferrara Summer Festival esattamente l'8 luglio del 2001 mi sto guardando uno per uno i video che ho fatto con la mail sottofondo che canta in maniera stolatissima ma chi se ne frega quanta nostalgia quanto 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 questo uomo ha fatto per quanto cioè dai è max sono io a Totot3 è max pezzali non si può non amare non si può non amare niente mi stavo riguardando i vari video che ho fatto delle canzoni con me e Anna in sottofondo che cantiamo come due povere deficienti come sempre ovviamente molto nostalgica come cosa devo dirvi la verità tutto c'è da aggiungere un dettaglio eravamo obbligati a stare seduti perché era ancora il periodo comunque restrizioni covid nel senso dovevi stare seduto dovevi stare seduto era stata una sofferenza immane quella sera stare seduti già era venuto giù il diluvio universale prima che iniziasse ma non abbiamo seduto siamo state lì io e Anna sedute sulla sedia con i nostri capawei addosso lei con la birra in mano io con l'acqua però vabbè dettagli è stato bellissimo però era una sofferenza stare seduti con la sera veramente una grande sofferenza buongiorno buon lunedì oggi inizio oggi inizio a luna finisco alle 5 nel mentre sto cercando di andare avanti con il libro di Barker che vorrei finire di leggere in questi giorni anche perché sono giorni in cui non sto leggendo tanto anzi veramente veramente poco e ho fatto un po' di diamond painting ieri ma sono giorni che sono stata veramente stanca perché insomma dieci giorni di fila lavoro senza riposo avevo iniziato a sentirli quindi ero abbastanza cotta però adesso ecco ieri mi sono riposata avevo fatto la terapia sono un pochino più ecco tranquilla quindi vorrei vorrei finire di leggere questo mi piacerebbe anche finire di leggere quello della della Bardugo prima di che finisca ecco ottobre anche perché siamo agli ultimi giorni di ottobre agli ultimi giorni ecco anche di questo vlog e e quindi insomma ci stiamo preparando del tutto per Halloween sabato ho preso la zucca da intagliare alla fine ho deciso che la voglio intagliare farò qualcosa di semplice ma la voglio intagliare anche quest'anno e una nuova decorazione da mettere che è già fuori ma vedrete poi quando vi farò vedere quando avrò effettivamente decorato il fuori che farò mercoledì così durerà mercoledì e giovedì niente adesso leggo un po' Barker fra un po' preparo il pranzo al mio fratello e poi quando tornerò a casa non lo so se andrò avanti con Barker comunque guardo gli episodi della serie degli 883 e quello nuovo di Ram non lo so vedrò che cosa fare vorrei fare tante cose ma sono un po' cotte in questo periodo quindi ce la faremo ce la faremo assolutamente forse coraggio tutti i miei piani sono andati a quel paese perché c'è stato un cambio di programma nel mentre mi ero dimenticata che oggi appunto è lunedì e alla Lidl da oggi iniziano a arrivare le cose di Natale e devo tirarmi ancora la frangia non l'ho fatto per quanto riguarda le decorazioni e robe del genere quest'anno parma niente per esempio c'è fatto che ho già preso tutto quello che mi serviva da action e mi mancano proprio due robe sto aspettando Santa Bustina per prenderle però quello che mi interessava è che uscivano gli stampini bellissimi per fare i biscotti a tema Natale e anche le formine vere e proprie e quindi sono andata quindi il mio obiettivo principale erano appunto questi loro e questi poi uscivano anche i pigiami della Disney e poi c'erano anche quelli di Harry Potter che ci sono ogni anno e mi ero detta se trovo la taglia ne prendo uno e se no niente beh ho trovato la taglia perché anche se è una L i pigiami della Lidl da donna L mi vanno bene perché comunque beh sono tedesche e quindi sono un pelino più grandi quindi ho preso questo qua questa versione qua che è molto molto carino ho detto vabbè però poi mi ero dimenticata di un altro dettaglio e cioè appunto che oggi uscivano anche le candele c'erano sia quelle classiche che ci sono ogni anno più alcune diverse di altri gusti ma soprattutto c'erano le Yankee Candle Home Inspiration che sono praticamente la versione economica delle Yankee Candle di cui una jarra grande che di norma costa 30 euro ne costa 18 e ne ho prese parecchie ecco di genere grandi del genere e c'erano due profumazioni la prima che ho sentito è questa che profuma di pino in una maniera esorbitante ho detto ma sì dai prendiamola però poi non mi era accorta che c'era un'altra profumazione perché erano in due posizioni diverse ho detto oddio ho usato anche l'altra buonissima anche quella nel dubbio se non sai cosa scegliere cosa fai le prendi tutte e due e quindi niente oggi ho lasciato 56 euro alla Lidl e le candele sono quelle che mi sono costate di più ma non mi interessa perché sono buonissime e sono molto soddisfatta adesso che sono tipo le 11 e mezza mangio qualcosa anche perché io fra un'ora più o meno mi preparo e vado via mangio qualcosa preparo la pasta per mio fratello e mentre le leggo un pochino e quindi tutti i miei piani ah sì vero ho preso anche un sacchetto antispreco per madre ma quelli quando li trovo se c'è roba che usiamo li prendo sempre li prendevo anche prima quindi tutto rego e niente sono molto soddisfatta della mia spesa cosa c'era di Natale lucine alberi schiaccianoci che se posso dire lo costano di meno da action e sono più belli la roba di Natale della Lidl è sempre la stessa in 5 anni che ci ho lavorato le cose erano sempre le stesse magari quest'anno non so hanno ampliato un po' non lo so è uscito oggi per la prima volta vedrò man mano da volantino però alla fine tutto quello che mi serviva che sono cose completamente diverse da quelle che ci sono sempre state da Lidl le ho prese da action perché hanno roba veramente bella non per dire però è così sono cose diverse che variano la roba di Natale della Lidl è sempre stata la stessa in 5 anni quello che mi serviva avevo già preso anni fa negli anni scorsi adesso ho preso cose diverse appunto perché le ho trovate dove lavoro e sono molto più belle e sono diverse fa di fatto che niente e anche oggi ho speso soldi se non spendo soldi non sto bene no non è vero è che mi hanno fregata le Yankee Candle l'ho partita per altro ma poi ho preso anche loro ci sta ci sta va bene così ciao 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 Grazie a tutti. Sono appena uscita dalla fumetteria e ho fatto spese, ho ordinato alcune cose, c'erano già tutte le uscite di Lucca, ma io le ho già prese da Amazon, quindi va bene così. Adesso mi dirigo alla macchina e torno a casa, oggi è l'ultimo giorno del mese, quindi ultimi aggiornamenti di questo vlog, e niente, oggi intagno la zucca e inizio la vodagia mpenting, quindi viviamo alla giornata e chiudiamo questo mese. Comunque per forza che poi una persona sia male, cazzo, stamattina sono uscita, c'era ancora la nebbia, è un freddo cane, adesso sono uscita dalla fumetteria, c'è il sole e un caldo disumano. Io mi sono beccata il colera in questi giorni e poi mi chiedono dove te la sei presa, ma fai te, fai te. Comunque sono da casa, non dobbiamo esserci annunci della Star Comics oggi alle 10 e mezza, io su Anime Click non vedo ancora niente, quindi va vediamo. Intanto di interessante mi hanno annunciato la nuova edizione che è uscita in Giappone di Rayart, questo potrebbe essere qualcosa di interessante, che io prenderò perché è bellissima, anche se ho la prima o la seconda, ma vabbè. Potrebbe essere una cosa interessante che possa rilanciare le opere delle Clamp? Vedremo. Perché ci sono comunque alcuni titoli che sarebbe bello che venissero ristampati, riportati, e appunto in Giappone sta uscendo questa collana con queste copertine che hanno tutto il disegno del nuovo stile delle Clamp, molto minimal ma molto carine, e magari questa ristampa di Rayart potrebbe essere l'inizio del via della ripubblicazione anche di opere più vecchie, tipo anche Chobbiz, che non ha mai avuto una riedizione da parte di Star Comics. Quindi incrociamo le dita e adesso aspettiamo sti dannati annunci di Star Comics e vediamo cosa ci propongono, speriamo qualcosa di interessante perché vedremo un po'. È ben arrivata a casa e è arrivato il pacco da chat di un nuovo abbonamento che ho fatto, un abbonamento che merita tutti i soldi che costerà ora della fine, che non saranno pochi, però ora del 2026 insomma c'è tempo per finirlo. Allora, in tanti si sono buttati, come ben sappiamo, sulle miniature delle Rose di Versailles e delle di Oscar che sono orribili, cioè non valgono proprio i soldi che costano. Io invece ho deciso, visto la mia passione per le miniature e l'obbistica di questo genere, di buttarmi su una nuova cosa che ha lanciato a Shet, che è praticamente una cosa fighissima, una miniatura molto bella da fare, che è questo qua, il magico teatro delle fiabe. Magic Music Theater della Disney è praticamente una casetta, una specie di teatro, teatrino, che ha nove finestre e ogni finestra ha una scena iconica di nove film Disney. Io ho fatto l'abbonamento a questa cosa bellissima e mi sono, in teoria esce a gennaio, però mi sono già arrivate le prime due uscite. Allora, l'uscita numero... non è specificato, ma questa è la numero due. C'è Bell e le finestre e qualche altro tipo cose. E questa invece è l'uscita numero uno, con altri parti, questi sono le viti, il cacciavite, insomma, wow, tutto da costruire e io non vedo l'ora di iniziarlo, perché col mio amore per le miniature questa cosa non potevo, e poi per il mio amore della Disney, non potevo farmela assolutamente scappare. Ci vorrà il suo tempo, perché comunque la prima uscita costa... 1 euro e 99 e... la seconda a 5,99 però, tipo, io ho preso le prime due uscite a 5,99 una roba del genere dovrebbe essere, fammi vedere, non mi ricordo ho qua il bollettino è la prima e la seconda uscita sì, a 5,99 una cosa del genere, anche perché io pago con Paypal quindi mi scalano direttamente i soldi da lì così ho anche le spese di spedizioni gratuite e... niente sono molto contenta di questa cosa non vedo l'ora di iniziarla a costruire perché una volta finita sarà meravigliosa e ogni stanza ogni film, ogni scena si muove e fa anche la musica quindi ciao, ne proprio! ciao! 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 ciao!